Sare bene? Che mi sono in cuorlo! È meia, è meia! No, però mira! Non venga, niente! No, non venga! Non venga, niente! Non venga, niente! Non venga, niente! Non venga, niente! Ah, no, no! Sono altissime! Sono altissime o altissime? Sì, sì, però un momento... Poi sui solo, sai? Poi sui solo, sai? Poi sui solo, sai? Poi sui solo, sai? Eh, è un guida! Che cosa? Che cosa? Che cosa? Non so, può essere che va a rotella! Ah, no, no! Però miro! Tu guante! No, no! Sáquame una foto normal! No me saques eso! No, no! Dónde está la cámara? Toma! No! Sáquenme una foto normal! Don... Déjame... Déjame a... Déjale a Rafa! No me saqué a mí los cuernos! No lo puedo deshacernos! No me saqué a mí! Que me saqué a mí! Que no ha pasado! Eh, me saqué a mí! Eh, me saqué! Eh, me saqué! Mi due... Que por esas detras popolera ro... Estamos poniendo... Non c'è la mia casa. C'è la mia casa. Non c'è la mia casa. Non c'è la mia casa. Da la pari. Il pari alle 6 ore del mattino. A ver se non ci sono i nostri amici.